8 maggio 1992, 8 maggio 2022, 30 anni di autonomia per il calcio molisano, una festa che sarà celebrata a livello formale con la festa del calcio all'inizio della prossima stagione, ma che è intanto ricordata con grande soddisfazione dal numero uno della FIGC LND Molise, Piero Di Cristinzi. Sembra ieri, scrive il presidente nel suo messaggio augurale, ma guardando a ritroso è stata fatta molta strada, ricca di eventi importanti, che hanno lasciato un segno indelebile e hanno accompagnato in questi anni la crescita di tutto il movimento calcistico regionale. Diversi gli eventi di rilievo per il fronte calcistico territoriale, con la presenza in regione delle nazionali maschili e femminili, l'organizzazione di convegni di rilievo per il movimento, l'inaugurazione di diversi impianti di ultima generazione, col supporto della regione e l'essere antiesignani, rispetto al resto d'Italia, per il fronte dei campi senza barriere ad Agnone e Trivento. Sul territorio ci sono state le esposizioni anche della Coppa del Mondo nel 2006 e della Coppa Europa nel 2021. Attenzione forte, c'è stata pure sulla base e sui rapporti sempre più stretti con i vertici della FIGC e della Lega Nazionale di Lettanti. Nel 2016 il calcio molisano ha avuto anche la sua sede. Comitato ha dovuto fare i conti negli ultimi anni con spopolamento e pandemia, ma ha trovato sempre la chiave di volta per fare di questi primi trent'anni il punto di partenza di ulteriori traguardi, come il completamento del Centro Federale.